Carissime riflessioni un po' insieme a voi in questo primo giugno che è una giornata molto giallorossa, molto romanista perché evidentemente è proprio nel DNA di questa tifoseria il fatto di avere queste giornate così anche assurde nella loro tristezza perché chiaramente avrete visto anche sui social e su internet in generale quante persone si stanno lamentando del furto, della rapina a mano armata che è stata commessa ieri a Budapest dove la Roma perde la Coppa UEFA, l'Europa League con gravissime responsabilità dell'abitro inglese e di tutto lo staff arbitrale direi, troppe le cose che non sono andate nel verso giusto da parte di Taylor, dai famosi sette minuti di recupero completamente inventati a fine primo tempo, le ammunizioni dispensate con leggerezza nei confronti dei giocatori della Roma che hanno condizionato tantissimo poi nello svolgimento della ripresa i nostri giocatori che chiaramente avevano paura di lasciare la squadra in inferiorità numerica che contro un avversario come il Siviglia, un avversario molto forte, perché il Siviglia è una brutta squadra veramente ragazzi, sarebbe stato fatale poi rigore clamoroso per il fallo di mano del mio omonimo Fernando che è una cosa che non si può guardare, la mancata espulsione di Lamela, il calcio di rigore fatto ripetere a Montiella dopo che guarda caso Patricio aveva parato, questo rigore che è stato poi ripetuto è stato quello finale, troppe cose non sono quadrate, io oggi mi sento profondamente proprio offeso anche da questo abitraggio, ferito, non mi sento neanche molto bene perché ho accusato molto questo colpo, non ho neanche pranzato oggi pensate un po', ve lo dico con sincerità perché siamo così, per noi questa è una delusione cosciente, è una delusione difficile da digerire perché tu vai in campo, perdi 2-0, 3-0, 3-1, non riesci a contrastare l'avversario a certo momento te ne fai anche una ragione, ma quello che è successo ieri è qualcosa di una gravità inaudita. La partita di ieri è stata proprio un concentrato dei problemi che la Roma ha avuto in questa stagione perché da un lato tanti errori arbitrali che fanno pensare veramente alla mala fede, però errori che anche non vengono contrastati a dovere dalla società perché questa è una cosa che dice anche Murigno, bisogna sbattere i pugni sul tavolo, puntare i piedi e farsi sentire di più perché ormai sappiamo che la Roma è una squadra bersagliata e veramente con scarso potere, con scarso rilievo tra virgolette politico che viene veramente massacrata sotto questo punto di vista. Poi si è visto un allenatore che sicuramente ha fatto l'impossibile con il gruppo che aveva a disposizione, che però naturalmente anche questo evidenzia i limiti nella costruzione di questa squadra che hanno un responsabile che ha un nome e cognome precisi e si chiama Tiago Pinto che purtroppo non ha saputo soprattutto a gennaio fornire quei rinforzi che io, non solo io, naturalmente abbiamo sempre invocato a partire dai famosi svincolati che potevano rappresentare un'opzione in più. Noi abbiamo visto ieri in campo due giocatori di 37 e 38 anni, Rakitic e Fernando che hanno già una grande partita ad esempio, non è che tu devi avere per forza il giocatore dei 23 anni, 24 anni in una rosa, è la qualità poi alla fine che fa la differenza. Per cui sono stati commessi dei gravi errori per i quali io rinnovo la mia richiesta che Tiago Pinto venga sostituito. Abbiamo pagato anche alcuni errori, alcune deficienze, chiamiamole così, di natura tecnica di alcuni nostri giocatori perché Belotti per esempio mi pare che fosse l'ottantaduesimo, non vorrei dire una cretinata forse sbaglio, forse non è, adesso mi ricordo più il minuto, forse era già nei tempi supplementari quando la palla battuta a sorpresa di sinistro è solo davanti al portiere ma non colpisce bene e poi c'è anche, tra l'altro non viene dato neanche il calcio d'angolo perché c'è stata una leggera deviazione di Bono ma in tutti gli errori che hanno commesso ieri gli hub d'inglesi questa è stata proprio la cosa minore però da quella posizione un attaccante insomma senza il contrasto del difensore avrebbe dovuto fare di meglio e quindi la cosa ecco che veramente mi ha dato tanto tanto fastidio anche è stato il modo in cui Wijnaldum è entrato in campo e come ha giocato, c'è stato qualcuno su un social oggi che scriveva una cosa simpatica e dice tra i tanti errori commessi da Taylor l'abito non si è accorto che a un certo punto è entrato in campo un tifoto con la maglia di Wijnaldum e non è più uscito perché veramente Wijnaldum ieri è sembrato qualcosa di diverso da un giocatore professionista io dico non c'hai proprio voglia più di giocare in questa squadra ma perlomeno guadagnati la pagnotta correndo dietro agli avversari almeno quello ha avuto un atteggiamento veramente indisponente e irritante ma non è la prima volta negli ultimi tempi che lo vediamo in queste condizioni e ieri però tutto questo è imperdonabile perché c'è una posta in palio altissima e a questo punto vista la scarsa voglia di giocare a pallone a roma che ha questo ragazzo non lo so se resterà ma è stata una grandissima delusione Wijnaldum dovrebbe essere uno dei punti di forza di questa squadra presentato anche vi ricordare con quel video famoso che lui esce dalla piscina poi il brutto infortunio in allenamento ma poi è passato un sacco di tempo e Wijnaldum che pure ha un tocco di palla eccellente l'abbiamo visto completamente distratto non so da cosa questo si è notato molto anche nel doppio confronto contro il Feyenoord la sua squadra del cuore dal quale Wijnaldum si è sostanzialmente chiamato fuori fin dall'inizio ma ieri lui ha veramente mostrato di non meritare il nostro affetto e la stima che c'è sempre stata del tecnico una prestazione vergognota che tra l'altro andava a un certo punto risolta con ulteriori sostituzioni bisogna avere il coraggio di sostituire Wijnaldum e di mettere Bove bisogna avere questo coraggio sarebbe stata una sostituzione ardita diciamo ma se la sarebbe veramente meritata c'è chi dice forse Di Bala poteva entrare nel secondo tempo perché poi c'erano i supplementari invece di metterlo dal primo minuto ma Di Bala ci stava risolvendo la partita con la scelta rischiosa indubbiamente di Murigno di metterlo dal primo minuto forse anche per spaventare un po' l'avversario per riequilibrare un po' la valenza offensiva delle due squadre perché loro hanno un gioco molto offensivo mentre la Roma senza Di Bala sarebbe stata ancora più chiusa ma il vero spartiacque della partita è stato l'autogol l'autogol in questo secondo tempo che la Roma affronta un po' forse troppo titubante come a cercare di far passare un po' il tempo quell'autogol dove purtroppo Jesus Navas affonda come un coltello nel burro sulla fascia destra e mette questo pallone in mezzo non si è capito bene qual è stato il problema di posizionamento io ho avuto la sensazione che Mancini e Smolli si siano sostanzialmente un po' stacolati fra di loro Patricio purtroppo era molto vicino Mancini non se l'aspettava e credo che per andare a cercare il pelo nell'uovo forse poteva fare qualcosa di più pure lui non era semplice perché era molto molto vicino da là è stata un'altra partita è diventata veramente una sofferenza e lì è entrato in ballo anche l'arbitro che ne ha combinato di tutti i colori ne ha combinato veramente di tutti i colori tra l'altro c'era anche la mela da espellere che continuano avrebbe tirato rigore poi sono anche delle polemiche sulla scelta dei rigoristi non è sembrata di più proprio il massimo della vita non è sembrato far tirare i primi rigori a Cristante Mancini e i Bagnet soprattutto che ha avuto una stagione molto difficile non l'abbiamo visto molto convinto i Bagnet sul dischetto mentre Mancini non mi sembra proprio che la sua carriera sia da considerare un rigorista credo che sarebbe anche potuto tranquillamente mandare invece sul dischetto appunto Wijnaldum visto che ha una tecnica infinitamente superiore a un giocatore come Mancini e che non era certamente stanco il discorso era mandare sul dischetto i giocatori più freschi anche secondo me quelli che erano entrati dopo quindi Sharawi, Wijnaldum, Belotti questo era un po' il discorso abbiamo mandato sul dischetto i Bagnet che aveva preso un sacco di colpi anche in faccia e in testa è stato spesso a terra in questa partita i Bagnet per i colpi ricevuti perché il Siviglia è una squadra che sulle palle alte un do coio coio proprio vanno anche a cercare un po' il contatto con i difensori sono molto malizioti, molto spreddificati e quindi questa mattina è stato proprio un concentrato di tutte le piccole deficienze di questa società, di questa squadra che messe tutte insieme hanno portato questa cosciente sconfitta che ridimensiona purtroppo ridimensiona il progetto perché l'anno prossimo saremo, se tutto va bene, ancora in Europa League e non andremo in Champions sono un po' troppi anni che non andiamo in Champions ormai e questo sta diventando anche un problema bisogna riprovare a vincere l'Europa League a fare una grande Europa League rinforzando l'organico adesso domenica 4 giugno c'è la finale contro lo Spezia buonanotte l'ultima partita contro lo Spezia di campionato una gara tra l'altro da vincere per motivi di classifica per conquistare sul campo la qualificazione alla prossima Europa League lo Spezia che è disperato probabilmente retrocederà perché il Verona va a Milano il Milan ormai ha raggiunto i suoi obiettivi se la giocano Verona e Spezia questa salvezza la Roma avrà molti giocatori che non hanno giocato ieri ci saranno dei giovani sicuramente giocherà sul Bakken al centro campo mi aspetto proprio Camara veramente è Bove Camara è Bove mi aspetto e quindi immagino anche gli Orente e quindi la nostra dei nostri tifosi saluteranno questa stagione questa squadra che comunque ci ha fatto sognare fino alla fine in mezzo a tante sconfitte questi tifosi che a scatola chiusa hanno comprato l'abbonamento soprattutto Curva Sud e Distinti Sud che sono già esauriti per la prossima stagione tentano in meno sapere quali saranno i giocatori quali saranno gli obiettivi quindi questo va veramente a merito dei nostri tifosi che sono il motivo per il quale non bisogna mollare assolutamente di un centimetro e però allo stesso tempo bisogna ristrutturare questa società perché così non ci siamo noi abbiamo bisogno di un nuovo direttore sportivo abbiamo bisogno di mantenere Murigno perché se se ne va Murigno a questo punto in questo quadro già complicato non so veramente cosa può succedere bisogna rinforzare tanto la squadra a livello tecnico che ha bisogno di veramente 4-5 giocatori di un altro livello proprio rispetto a quelli di quest'anno in quel ruolo valutare bene le condizioni fisiche di alcuni giocatori anche per motivi di età come quelli di Spinazzola che ieri non ha giocato una buona partita è stato un po' una spina nel fianco ma stavolta per noi perché su quella fascia il Siviglia ha spinto veramente troppo poi ad un certo punto hanno proprio capito che passavano con facilità e il secondo tempo è passato su quella fascia praticamente l'hanno passato a mettere i palloni in mezzo da quella fascia lì che non è una cosa che va bene lo hanno tra l'altro limitato tantissimo nelle sortite offensive in questa maniera se la sono preparata bene la partita e oggi è facile dire ma forse di Bado è entrato nel secondo tempo forse era meglio partire con Sharaui forse era meglio mettere Sharaui invece di Belotti forse Iwan Aldum non è in buone condizioni non doveva entrare però io quello che so è che se l'abito avesse fatto l'abito invece di qualcos'altro questa partita probabilmente la avremmo portare a casa perché probabilmente bastava dare quel rigore per il fallo di mano di Fernando e avemmo trovato un modo di vincere questa partita per il momento dovevo andare in faccia alla realtà serve però ripeto servono figure nuove serve un dirigente che quando succedono queste cose va davanti ai microfoni a dire le cose come stanno a chiedere giustizia a mettere i puntini sulle i non può fare tutto Murigno che poi passa per una ruffa popoli che mette becco su tutto cioè non c'è questa figura ci vogliamo mettere Francesco Totti ci vogliamo mettere qualsiasi a chi vi pare ma ci volete mettere Boniek ci volete mettere troviamo delle figure che facciano rispettare di più la Roma sia in ambito nazionale che in ambito internazionale non è facile ma i fricchi non parlano mai da un lato è una cosa buona dall'altro però non è una cosa buona perché così non ti rispetta nessuno perché non ti sente nessuno troviamo delle figure nuove per rinforzare questo organigramma e soprattutto progettiamo una campagna di rafforzamento tecnico della rosa che deve essere quest'anno molto importante perché la Roma ha nella sua rosa purtroppo l'abbiamo visto alcuni giocatori che non possono giocare nella Roma grazie amici per l'attenzione e continuiamo continuiamo a tifare i nostri colori grazie a tutti